Al via la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival. L'apertura questa sera è affidata a Lina Sastri. Per noi dal Museo di Capodimonte c'è Anna Teresa Damiano. Buonasera dal cortile della reggia di Capodimonte. Vedete si sta ancora lavorando. Ultimi tocchi, tra poco qui si riempierà. Sarà in scena Lina Sastri con la mancanza. Un atto di amore, di nostalgia che parte dal dolore diventa anche inno alla bellezza. Contemporaneamente a Pietrarsa per la sezione cinema autobus 2857 di Nadia Baldi con Vinicio Marchioni. E sono già sul palco, in scena, i ragazzi dell'Istituto Minorile di Airola con Amleto Principe di Airola che è frutto dei laboratori. Insomma tre facce di un festival che è un vero caleidoscopio. Qui con me ci sono due dei protagonisti di una grande squadra. Ruggero Capuccio, direttore artistico del Campania Teatro Festival e il padrone di casa, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Silvan Bellegere. Allora Capuccio, 145 eventi. Eh sì, c'è tanto, ci sono 145 eventi. Ci sono tanti eventi perché come nella Reale Biblioteca di Windsor ciascuno deve essere libero di scegliersi i propri libri pur davanti a un'immensa mole di volumi. Contemporaneità è importante, 85% del festival è fondato su scrittori viventi. Nell'ultimo secolo noi abbiamo avuto tantissimi esperimenti importanti sui classici in Italia, ma l'Italia è in ritardo rispetto a Francia, Germania, e Inghilterra, sulla spinta alla contemporaneità. Ricordiamo che Capodimonte è la cittadella di questo Campania Teatro Festival ma i luoghi sono tantissimi. La cultura è un organismo che ha tanti arti, tanti organi. Questi organi devono collaborare, questi arti devono coordinarsi. Grazie a Ruggero Capuccio, direttore Bellegere. 134 ettari, il Real Bosco di Capodimonte con quattro palchi, spettacoli anche nel museo, lei ha lavorato sempre in questa direzione. È un unicum? Il grande orgoglio di avere la direzione di un luogo così enorme. Napoli non ha il senso del meschino, è sempre enorme a Napoli. La regia di Capodimonte e il Bosco di Capodimonte fanno insieme il più grande museo d'Italia. Avere all'interno di questo museo il Campania Teatro Festival per noi è un onore e anche un sogno perché la nostra politica è sempre stata di allargare al massimo il concetto di cultura. Grande attenzione ai bambini. Grande attenzione ai bambini. Ci sono tanti spettacoli gratuiti, attività gratuite ogni weekend. Grazie ai miei ospiti. Allora si comincia le 21 con Lina Sastri, linea allo studio.